un cortello di saluto buongiorno ben ritrovati cari telespettatori oggi venerdì 29 settembre c'era anche una canzone se non ricordo male che appunto cantava il giorno di oggi oggi è un giorno importante anche per tutti coloro che vanno che credono quelli che vanno in chiesa quelli che hanno fede perché la chiesa cattolica andiamo sul calendario di oggi festeggia tre grandi santi arcangeli michele gabriele raffaele il sole sorto alle 7.03 tramonta le 18.54 per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire nel senso che oggi avremo cielo sereno un poco nuvoloso con addensamenti di tipo cumuliforme nel settore centro meridionale della regione le temperature sono in diminuzione nei valori massimi avremo un po di venti di brezza tesa da nord a tratti moderati lungo la costa per domani sabato 30 settembre ancora cielo sereno poco nuvoloso le temperature diminuiranno nei valori minimi domenica primo ottobre cielo sereno su tutta la regione con temperature lieve aumento l'anticiclore della zorra e continuerà a garantire tempo bello per i prossimi giorni sorvegliati dal 118 da 118 telecamere a pesaro ecco la mappa della sicurezza questo è il titolo del corriere adriatico la pagina di pesaro di questa mattina lotta alla criminalità tra pesaro e l'unione dove parte il servizio notturno della municipale poi il corriere adriatico mette a centro pagina su tutte le edizioni praticamente il convegno che ha organizzato il giornale a macerata con il vice presidente del csm il sottosegretario chiavaroli dice alla camera troppi magistrati poi sul terremoto dice una legge quadro per la ricostruzione il carlino invece in primo piano mette i residenti di valle foglia che hanno paura un po dopo quello che è successo la rapina che è successa l'altra notte ai danni di un albergatore o meglio di un di un portiere di notte posti di blocco e raffica di controlli ieri dei carabinieri nel territorio del comune finito nel mirino della criminalità tanti non parlano temiamo addirittura ritorsioni poi le pagine interne del carlino il padre disperato va in televisione voglio riabbracciare mio figlio bimbo sparito in messico con la madre l'appello del genitore la nostra procura procede per sottrazione di minore ed abbandono del tetto coniugale e si appresta a processare la donna in contumacia il tour lo vedremo tra poco di un politico che ha deciso di fare un giro su due autobus e dentro si è accorto che praticamente c'è pioggia che cade addirittura dentro l'autobus qui vedete la fotografia che ha scattato con il cellulare l'ombrello aperto sopra due sedili e poi tanti rumori assordanti e poi filmini bollenti con ricatto patteggia ad un anno e nove mesi è stato condannato il tinto brass dei telefonini è un sudamericano amante di una collega che ha fatto i filmini poi a un certo punto ha detto adesso o mi dai soldi oppure io questi filmini li metto in rete a rimini un pesarese a giudizio picchiò un 24enne che poi finito in coma e a fano invece sull'aeroporto il lodo arbitrale dà ragione all'ex presidente santorelli e allora ripartiamo da qui proprio dalla pagina di fano e dall'aeroporto illegittima la revoca di santorelli fa non fortuna e il lodo arbitrale dà ragione all'ex amministratore che era stato rimosso il braccio di ferro continua nelle aule giudiziarie sono stato dice il commercialista diffamato la pagina di fame invece del corio adriatico e per i corsi mascherati il carnevale c'è il dubbio amletico della carnevalesca se introdurre il biglietto d'ingresso rinviata la decisione per consultare il sindaco i costi della chiusura dell'area sarebbero alti io non so in che senso ma comunque secondo l'ente carnevalesca sarebbero alti secondo me basterebbe qualche a transenna e un un operatore che sta lì e che controlla i biglietti il resto non è come 20 anni 30 40 50 anni fa quando si scavalcava addirittura stavano tutti col fucile puntato non è più così cioè adesso basterebbero delle transenne normalissime transenne e due persone che stanno lì alla porta non mi sembra tutto questo questo dramma poi vabbè comunque provinciali la strada provinciale una strada minata un tratto di 5 km al limite della transitabilità roscini ex proloco sulle pessime condizioni della 115 ci sono buche ovunque e quando piove diventa un grande pericolo un grave pericolo guidare e questo è lo stato di degrado della strada provinciale 115 tra torre san marco e sant'andrea di suasa mentre vedete nel tondo italo roscini che ex presidente della proloco di fratte rosa andiamo sulla sull'altra pagina del resto del carino dicevamo di questo politico che fa il passeggero e ha fatto un po un reportage allora intanto il politico è il consigliere della lega nord dall'asta che scopre facendo questo viaggio su questi autobus tetti sfondati e rumori assordanti c'erano almeno dieci sedili dice lui bagnati con gli utenti costretti quindi a stare in piedi urbino da urbino il carlino scrive di un lutto un lutto che ha colpito la città perché la città di urbino ha perso uno dei suoi storici cittadini il falegname domenico angelini conosciuto con il soprannome di spolvericcio domenico è deceduto alle 13 40 di mercoledì 27 all'età di 87 anni era conosciutissimo appunto per la sua bottega di falegnameria i funerali si sono svolti ieri pomeriggio alle 15 nella chiesa della santissima annunziata di urbino e sempre da urbino però dal correo adriatico c'è fermento per il cinquecentenario di raffaello una legge la legge che appunto servirà per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di raffaello nel 2020 fa felici tutti ad urbino il presidente dell'accademia raffaello luigi bravi ha dichiarato che è stata molto positiva la doppia approvazione in camera e anche al senato radio veronica è viva più che mai questa è la notizia sulla pagina 10 del corriere di oggi il piano non più solo emittente ma una piattaforma che comprende social tv web e eventi brecciaroli che il direttore del gruppo di radio arancia annuncia vogliamo dare voce ai territori e presto ci saranno delle novità importanti novità soprattutto per restituire a radio veronica la dignità che merita la storica frequenza intanto 104 ha lasciato il posto ai 101.300 andiamo sulla pagina di pesero e provincia del corriere valle foglia la paura dei commercianti di notte siamo in balia dei malviventi ma occhielli torna da roma con buone ragioni per sperare in un aumento delle forze dell'ordine mentre il consigliere lucarini dice la situazione è figlia della cattiva programmazione degli ultimi dieci anni vale del cesano tutto pronto a pergola per la fiera del tartufo sarà un'edizione super dice il sindaco baldelli che presenta il programma fondato sulle eccellenze marchigiane uniremo il sud con il nord della regione a favore dell'economia e poi l'ultima pagina è quella di senigallia ricorderete ieri vi abbiamo detto di quella lettera che è stata trovata con il nome di un papà giuseppe disperato con due figli però si dubitava sul fatto che potesse essere reale ebbene dopo un dopo 24 ore dal giornale di oggi dal corriere si apprende che questa lettera è vera è autentica ma soprattutto giuseppe esiste e il suo dramma purtroppo è reale è un padre rimasto vedovo senza lavoro con due bocche da sfamare sono i figli luca e federica quindi nessuno scherzo di cattivo gusto sarebbe davvero troppo giuseppe disperato ma non viva senigallia e la sua lettera trovata alle saline e a sant'angelo non era rivolta ai senigalliesi perché lui vive nella provincia di milano e tutto il racconto è sul sul giornale di oggi il corriere adriatico che troverete in edicola io mi fermo qui la rassegna stampa è finita ci vediamo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia intanto se avete segnalazioni da farci il 338 49 68 250 come sempre è a vostra disposizione a me non resta altro che augurarvi dunque una buona giornata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti